kawabang a tutti ragazzi sono la edate che oggi iniziamo una nuova serie sulle skywars ed eccoci qua nel mondo skywars devo dire un mondo tutto nuovo una cosa che non avevo mai visto prima devo ringraziare tantissimo chi me l'ha suggerito perché il mondo skywars che è un server sono tanti server online e quindi contro altri giocatori è tutto un mondo e un modo di giocare completamente nuovo su minecraft lifeboat è stato ideato da lifeboat l'applicazione tramite la quale ci si può registrare ma ci si può registrare anche all'interno del gioco appunto quindi una volta entrati farete la registrazione tramite il nome nelle opzioni di minecraft che vi siete messi quindi io essendomi messo l'idotech basterà andare qui in alto nel menu della chat e fare il comando con lo slash fare register eccolo qua è semplicissimo registrare infatti mi dice che questo account è già registrato una volta comunque fatto register vi chiederà la password con il quale vi registrerete al vostro account e l'email di registrazione ok quindi una volta che rientrerete perché volete risocare alle skywars basterà fare il comando con lo slash login inserire la vostra password e come vedete adesso siamo registrati e abbiamo ottenuto il pacchetto warrior una volta che ogni volta che rieffettuerete l'accesso cambierà pacchetto casuale che vi capiterà all'inizio delle skywars vedete qui infatti i pacchetti che potete scegliere se avete un account vip se avete l'account vip a che pagamento potete iniziare con uno di questi pacchetti a vostra scelta ok quindi adesso ciancio alle bande bando alle ciance e andiamo subito a fare play se non siete se non avete effettuato il login voi andrete sul play e vi sbalzerà fuori perché non potete entrare quindi se io invece avendo effettuato il login vado sopra vedete che siamo entrati tutto in un nuovo mondo ci sono veramente tantissime mappe skywars e finché non scaldrà il tempo 14 secondi non si può iniziare vedete che ci sono gli altri player contro i quali giocheremo e che cosa sono le skywars semplicemente un deathmatch tutti contro tutti o può essere fatto anche in team non so come si faccia però andiamo alla grande ok dobbiamo buttarci o ucciderci di sotto quindi prendiamo subito tutto il necessario aia dalle nostre cest no vabbè siamo già morti ragazzi perché praticamente ecco adesso siamo spettatori perché praticamente qualcuno gli è capitato o ha trovato nella cest l'arco con le frecce e mi ha buttato di sotto oppure gli è stato dato il pacchetto dell'arcere già a inizio gioco quindi io che con warrior parto con il con l'ascia di ferro qualcuno può partire già con l'arco e 32 frecce cioè una cosa bellissima comunque vabbè vediamo come prosegue vedrete infatti adesso che si scanneranno quindi o ci si uccide o ci si butta di sotto come è capitato nel mio caso che neanche me lo stavo aspettando quindi fate moltissima attenzione subito perché vi potrebbero uccidere già dall'inizio attenzione la costa che ha ucciso oracle mamma mia d'altronde è una spada di diamante contro una ascia di ferro si sa che ha fatto i danni la spada di diamante attenzione presumo ci sarà l'ultimo scontro perché ormai ormai ci siamo ragazzi sono gli ultimi due player quindi fate molta attenzione e ve l'avevo detto oh mio dio che combo ve l'avevo detto che infatti aveva l'arco con le frecce quel bastardone l'ha buttato subito di sotto va bene andiamo subito a fare una nuova partita cosa che vi consiglio subito di girarvi attorno perché vedete che adesso ho due player contro un attimo fa era solo uno quindi man mano che si connetteranno i player aumenteranno o potranno essere anche pochi ecco vedete ne appena passa un altro la quindi saremo ne dovrò uccidere solo tre ok molto molto bene ok andiamo subito sulla coda ok perfetto ottimo bene 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 abbiamo trovato un bel po' di cosette molto molto utili prendiamo raccogliamo tutto dai nostri bauli ecco vedete che la connessione mi ha ecco infatti si era disconnesso dal wifi come avete appena visto si è riconnesso purtroppo oggi ho il wifi che fa un po' di capricci è per quello che anche la partita di un attimo fa non mi aveva preso per l'appunto il blocchetto che avevamo appena messo no vabbè ma quello là un arco cioè mi butta subito di sotto quello là oh mio dio odio quelli con gli archi ok però anche raggiungere gli altri non è per niente facile ragazzi eh allora andiamo avanti se ci riusciamo questa volta a non farci uccidere perché è veramente una noia assurda morire solo perché il wifi non funziona o fa dei capricci ok andiamo avanti gli stiamo proprio andando sopra ah mio dio stava risuccedendo un'altra volta oh mio dio ok ci siamo prepariamo la nostra ascia e andiamo di sotto via ah ah dove sei muori muori aia aia muori bastardo muori dove cacchio sei non ti vedo non ti vedo dove sei mi sa che l'ho ucciso ragazzi mi sa che l'ho ucciso ok ricopriamoci armatura aumentata perfetto allora andiamo avanti ragazzi dobbiamo uccidere anche gli altri oh che bello finalmente una sfida un po più avvincente vedete che il wifi continua a fare capricci oggi proprio non ne vuole sapere eccolo è là sotto lo vedo si vede dal nome ragazzi molto importante lo vedete dal nome ok andiamo oh è caduto attenzione è caduto e vabbè abbiamo vinto senza combattere e vai abbiamo preso un call per la partecipazione 5 per aver vinto e 2 per un uccisione fatta che cosa bellissima andiamo a fare l'ultima mappa l'ultima sfida ed eccoci qua in un'altra bellissima mappa l'ho fatto anche prima 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 di iniziare a registrare ok siamo in due giocatori adesso quindi l'altro eccolo lì perfetto infatti ce lo ricorda sempre il server nella chat in alto a sinistra oh bene bene guardate quanti giocatori che si stanno aggregando a noi 4 secondi e si inizia oh mio dio sempre più giocatori questa sarà una bellissima sfida ok sperando che ci si non ecco già quello all'arco e non mi piace e non mi piace quando hanno l'arco eccolo eccolo sta già provando a buttarmi di sotto ma io sono ben protetto devo riuscire a scendere oh è sceso anche lui molto bene scendo anch'io vado dentro ok altre due ceste le palle di neve si posso tirare le palle di neve grande mago ok due spade d'oro fantastico ok bene 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 mi sa che questa sarà un'avventura molto bella e tosta ragazzi mamma mia questa questa mappa si pronuncia molto tosta ok risaliamo e iniziamo la nostra super battaglia vediamo dove sono gli altri oh mio dio attenzione 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 porca vacca è qui sopra è qui l'ho detto che è qui sopra quel bastardo quel bastardo io ti spacco la neve così sei costretto a cadere come la mettiamo eh eh come la mettiamo dai ti vedo dal nome lo so che sei lì attenzione eccolo la è proprio di fronte da noi e io non ho un arco lui ha un arco come la mettiamo oh mio dio questa sarà veramente difficile attenzione sono dietro la pianta sono salvo ci sono credo altri due player ancora in gioco ok questa sarà veramente tosta spero attenzione spero sia caduto non vedo più il suo nome non vedo più il suo nome sulla mappa si starà nascondendo da qualche parte prova ad avvicinarmi ancora aia 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 ce l'ha fatta quel bastardo ce l'ha fatta uh bella questa sfida arco contro arco mamma mia bella questa sfida mi piace molto bella eh eh come la metti adesso eh mamma mia prova ad avvicinarsi ma lui ha l'arco lui ha l'arco ce la può fare attenzione mamma mia che svolta sono speso in aria non ci sa come è caduto è morto è già morto ce l'ha fatta mio dio ce l'ha fatta vacca boia bella bellissima sfida ragazzi bellissima sfida una cosa bellissima ebbene ragazzi se vi è piaciuto questo video pollicione in su vi ricordo come sempre che qui sotto potete iscrivervi al canale nella descrizione trovate i link alle pagine facebook twitter google plus fatemi sapere grazie ai vostri commenti se vi è piaciuto questo video se posso cominciare una nuova serie insieme a voi e noi ci vediamo nel prossimo episodio kawabanga a tutti ragazzi insieme alla prossimo episodio